Ora basta, non si può andare avanti così. Giochi di Facebook, Browser Game, MMORPG, tutto gratuito, ma tutto uno schifo. Da adesso apro sul mio canale una guerra ai Browser Game, agli MMORPG e a tutti i giochi che se non esistessero si starebbe molto meglio. Per iniziare questa guerra partirò dal più famoso, dal più rompipalle, dal peggior gioco Browser Game che esista. Travian. Eccoci qua su Travian, il sito principale. Ok, mettiamo qua sopra la camera, speriamo che mi sentiate bene. Eccoci qua alla schermata iniziale. Benvenuti su Travian. Giocatori registrati 76.983 Giocatori attivi 65.492 Giocatori online 8.296 Cioè, non so perché 9.000 persone più o meno, anzi, 8.200 persone devono sprecare la loro vita così. Non lo so, vabbè. Ho già creato l'account ma per i vari problemi della mail che mi continua a sparire. Mettiamo il codice di attivazione, adesso vedete il nome commesso. Vediamo sempre se funziona. Eccoci qua, è stato attivato lentamente, seguito sul link per accedere. Ok. Nuovo motente Travian merda. Password. Questa qui. No, non la voglio ricordare. Mai per questo sito, grazie. Chiediamo queste due finestre. E ok. Benvenuto in Travian. Ho notato che si è inventato senatorio in questo piccolo villaggio. Saluto il suo consigliere. Va 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 va. Non me ne frega niente. Dai, cosa devo fare prima di tutto? Costruisci una segheria. Sì, giusto? Perché devo subito iniziarci a fare le seghe. Ok, allora. Segheria. Amplia a livello 1. Ok. Ecco. Già cominciamo a farmi girare le palle. Perché questo gioco consiglio tanto nel aspettare che le costruzioni siano fatte e così via. Aspettare che questo tempo arrivi a zero perché la segheria sia pronta. Tanto cosa faccio? Cazzo mi faccio? Mi faccio una sega? Mi comincio a giocare a 3-7? Non so. Vado a cagare e mi pulisco il culo per aspettare. Non so che cazzo fare. Allora, andiamo così. Area di produzione. Eh, sono già lì. Ragazzi, cazzo. Di pelago del villaggio. Cosa c'è? De ballo. Villaggio di Travian. Molto interessante. Una casa, appunto. Non c'è altro. Qualcosa è? Posso costruire qualcosa? Deposito, granaio, mura, magazzino, caserma. Ambasciata. Ambasciata è un brazzo per i due papà. Cioè, case no, eh. Per cazzo vivono. Per terra. Cos'è? La mappa. La mappa. Vediamo dove cazzo sto. Allora. Il cofe no. Che cazzo. Tavola è sto tizio. Travian merda. Eccomi. Ovviamente io. Chi è sto tizio? Bari. Carlo Levi. Cos'è qua? Oasi libera. Vediamo che c'è qua. Ci sono 38 topi, 33 ragni, 17 cinghiani. Cioè, cosa me ne dovrebbe fregare? Degli animali che ci sono lì. Cosa me ne deve fregare a me? Che c'è un 38 topi? Cioè, chi è andato a contarli poi? Qualcuno è andato lì a contarli uno per uno. Poi vediamo qua che è. Vediamo qua. Ci sono tre boschi. Quattro zone arginose, quattro giacimenti di ferro e sette zone coltivabili. Cioè, madonna santa. Sono proprio lì contati precisi. Cioè, gente che va a contare. Quattro boschi. Ah, ce ne sono anche di più qui, di boschi. Wow. Cos'è qui? Cos'è sta roba? Ah, i giocatori sono... Sì, bon... Vabbè. Forse ne ho due persone che abitano, proprio... Io sono uno dei due sfigati, l'altro sarà un cagnolino, non so, lo sciamano del villaggio, un topo, un uccello, un ratto. Che cavolo ne so io. Cos'è, bon... Messaggi? Mi ne ha muoviato un messaggino. Ciao, travel merda. Dal 9 alle ore 6, Romanica, le tutte le tante hanno battaglie su questo server. Cioè, perché fino allora cosa fanno? No, si segano, cioè, si mettono lì fuori, il mio villaggio, diciamo, aspettiamo le 6 del 9 del 7, poi tutti quanti dentro, ammazziamo tutti, fottiamo tutto quello che c'è, e via. Quanto manca? Ancora un minuto e cinquanta. Cosa faccio? Vado sul profilo, non so. Tribù romani, villaggi 1, proiezione, villaggi, coordinate, meno 70, 319. Ok, modifica il profilo. Cosa posso fare? Sesso, no, andate di nascita, sono nato. Ehm, boh, quando che ho strunato? Faccio 21 dicembre, dall'anno 0, avanti Cristo. Non so chi sono, Gesù Cristo, no? Boh. Non so neanche se era il 21 dicembre, ho un dubbio. Vabbè, non importa, torniamo al villaggio, vediamo se l'ha finito. Dice, magari vai. Ancora un minuto, eh, che palle, cosa devo fare? Cosa, 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 chi è sto tipo? Ah, sì, il tipo... Espanne il campo di grano. Vabbè, facciamo anche questo. Quello che facciamo, facciamo tutto qua. Ampia a livello 1. Fatto, fatto. Espanne il campo di grano. Cavolo, sto facendo un'ora. Aspettiamo, 2 minuti e 23. Oppure che devo anche dividere sto video in due parti. Che in due palle. Non ho voglia. Vabbè. Ho ancora... C'è... Oh, c'è una chat. Aspetta, apriamo un'altra finestra. Vediamo un po' se... C'è qualcosa da parte Java. Java, prodotto Java. No, aspettate, no. No, 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 no. Non mi interessa. Travi al shop. Travi al shop, voglio vedere che cosa c'è. Cosa dovrebbero vendere? Adesivo di Travian. Le spillette. La borsa. La mag... No, no, no. Adesso mi dice che cazzo va a spendere. Tipo... Qua cos'è, 35 euro per una giacca di Travian. No, dai. Giacca, sì, da cosi. Cosa c'è poi? Altre magliette, sì, buono. La tazza. La tazza del cesto, così caghi tranquillo. E' beato. Guardi la tazza, ti viene ancora lo stimolo. Maglie, magliette. Oppure quelle per le ragazze. Voi sapete se c'è qualche ragazza che gioca a Travian. C'è, madonna santa. Ho zero euro, lo so. Lo voglio comprare lo stesso. Non posso? Tanto per dargli fuoco. No. Ma cosa posso fare, madonna? Devo aspettare sto minuto qui. Minuto più, minuto meno. Cos'è, posso spandere? I tuoi tuttori sono già occupati. Ma vaffanculo. Madonna santa. Dai, muoviti. Eh, 54, 54. Travian plus, cos'è? Ah, sì. Dovrei spendere dei soldi veri per guadagnare dei vantaggi. Ma che cagata è sta roba? Dovrei spendere dei miei soldi? C'è quello che guadagno? Per madonna, monna, un giro. C'è qualcun altro qui? È in una foresta. Chi c'è qua? Oh, ancora. 43 cinghiani, 42 dopo 18 orsi. Ma chi li ha contati? Cioè... Poi se due orsi scopano e nasce un cucciolo. Come cazzo fanno a saperlo in anticipo? I tizi. Madonna. Madonna. Allora, dai. 15 secondi, dai. 15, 14, 13, dai. Vai avanti. Madonna mia. Dai, finisci. Ce la fai? Perché c'è il corso che mi brilla? Boh. Ok. Finito? Finito. Ok. Un giorno di Travian plus. Va bene, mi fa pecare. Cambio il nome del tuo villaggio con qualcosa di carino. Cioè... Ma cosa me ne frega? Oh, profilo. Dai, andiamo qua. Villaggio di Travian. Poetario Travian, merda. Ok. Centra la mappa. Ok. Non vedete qui. Che cosa ho fatto io? Non lo fa. Perciò il profilo. Eh. Che cosa ho fatto io? Non lo fa. Profilo. Ah, qua. Ah, che sono stupido io. Va bene, villaggio di Travian, merda. Non va bene, quindi facciamo... Puppatori incalliti. Cioè... Puppatori incalliti. Ti va bene come nome? Wow, che bel nome il tuo villaggio. Ovviamente. È un nome figone. Cioè... Adesso cosa... Travian giochi... Che cosa sono stati... Cioè, devo anche scrivere in che posizione sono in classifica, cioè... E poi mi chiedono anche il numero, perché hanno i dubbi che io vado a controllare. Dov'è? Dove sono io? Eccomi qui. Cioè, poi se qualcuno... Va avanti prima di me... Mi dice che è sbagliato. No. Ecco qualcuno. Qualche lavoro si è ma questo? Rispande venire di... Ferrispande venire di argilla. Ah, perché ho il plus, posso farne due contemporaneamente? Ah, interessante. Cioè, se devo aspettare... Sette... Sette e dodici minuti? Cioè, ma appunto che... Non è che il gioco cambia avanti. Dovevo continuare a costruire queste cose e... Forse... Entro una settimana o due potrò fare il mio primo combattimento. No, sentite ragazzi, basta. Io mi sono reggermente rotto i coglioni, perché... Non c'è nessun divertimento in sto gioco. Mi sto semplicemente rompendo le palle. Quindi, a parte che ho sbagliato, ho detto... Puppatori incalliti, bastava un AI. Puppatori ingalliti. Ora è. Basta. Io ci rinuncio, ragazzi. Mi dispiace, ma più avanti di così non vado. Non mi importa se mi insultate, dicendo... Travene figo, travene bello. L'hai giocato poco, non puoi capire perché. Fidatevi. L'ho giocato per un periodo con il mio account e fa cagare. Mi pento ancora di aver sprecato la mia vita. Così, per qualche giorno, giocare a Travian. Madonna. Vi lascio qui con il tempo che continua ad andare avanti. Tanto non finiamo più. Ciao a tutti quanti.